un po' di calcio che cosa? fatto io già tutto pronto non ti preoccupare si ma comunque l'anni era niente ancora è fresciuto è arrivato la coda quando ho studiato l'avevo, era niente niente e si perchè su Spagna c'è da mangiare la nata che chiudete? ok Chat function vieni qua vieni qua si scanda che c'è una aiata che c'è una aiata Vieni qua , vieni qua 수도 di più effettiva ui Grazie.